Un fermo e deciso no alla costruzione di una nuova biogasse nel territorio di Santa Palomba è stato ribadito dal Comitato di Quartiere Roma II e dall'Associazione Lazium Vetus. La realizzazione di questa centrale, un impianto da 60.000 tonnellate di rifiuti annui proposto da COGEA e SRL, aveva già sollevato manifestazioni popolari che chiedevano all'amministrazione pometina di imperirne la realizzazione. Risale al 7 novembre scorso l'ultimo corteo organizzato da cittadini e associazioni che hanno espresso la loro contrarietà alla realizzazione dell'impianto. A questo evento parteciparono anche il sindaco Fucci e tanti consiglieri di maggioranza. Il comune di Pomezia è infatti in causa contro la COGEA e SRL e averbe dovuto redigere un documento chiamato RIR, rischio incidente rilevante che, se negativo nei confronti della società, avrebbe potuto ostacolare la costruzione della centrale. Negli ultimi mesi tuttavia è sceso il silenzio sulla questione da parte dell'amministrazione, motivo per cui le associazioni hanno lanciato in questi giorni l'hashtag FucciRispondi, per avere chiarimenti riguardo la vicenda. In questi mesi, ha dichiarato l'associazione Lazium Vetus, il comune non ha portato a termine né l'adozione del documento RIR, né ha dato seguito alla proposta di vincolo culturale indiretto sui terreni limitrofi il complesso monumentale di Tor Maggiore, presentata in data 28 settembre 2015 ad opera di ben 27 associazioni di Pomezia, proprio a contrasto del progetto. L'assenza di risposte dal comune amplifica la preoccupazione dei comitati e delle associazioni che rimarcano la loro contrarietà al progetto. E' la non idoneità del sito prescelto e sono pronta a contrastare anche da sole gli atti ritenuti lesivi della salute dei cittadini e della tutela del territorio. Hanno commentato dall'associazione, al vaglio delle associazioni e anche l'organizzazione di manifestazioni ed eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica e difendere Pomezia da questo nuovo ecomostro, la cui realizzazione sembra essere inesorabilmente sempre più vicina.